Ciao a tutti ragazzi, benvenuti con questa nuova puntata anche oggi andiamo con un video per quanto riguarda questo film che vi spiegherò dopo per tutto come sempre è una rubrica dove non vuole fare virtuismi tecnici è tutto soggettivo si può essere smentiti e bla 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 quindi non è affatto una recensione vi dirò solo il mio punto di vista sui film che vedo e non vedo quindi poi dipende e spero che vi possa piacere questo film è realta nel 2005 di produzione spagnola la Spagna è una buona tradizione secondo me dal punto di vista dei film abbiamo Rec che credo che sono di produzione spagnola ma penso proprio di sì che sono dei ottimi film a parte il terzo che forse è un po' meno bello ma è di gusti cioè che è piaciuta a me personalmente tre non mi è proprio piaciuto tanto però gli altri sono veramente molto buoni La Spina del Diavolo credo che sia anche di produzione spagnola anche quello però non vorrei dire una stronzata e ancora credo poi ovviamente smentitemi qua sotto il labirinto nel fauno dovrebbe essere di produzione spagnola però non voglio dire una minchiata e ovviamente cito anche Tesis che è un altro buonissimo film secondo me di produzione spagnola quindi la Spagna ha buone tradizioni spagnole ha buone tradizioni da un punto di vista proprio dei film cioè fa delle cose buone e poi ci sono questi film che non capisci veramente perché con la foto all'altro e con lo spirito che sembra uno dello zio di Casper sembra sembra puzza o quell'altro o ciccia non mi ricordo la trama è questa qui in un collegio femminile c'è una una suora superiore che sembra Hitler che sembra veramente Himmler e cosa succede? punisce le ragazze in maniera corporale per purificarle ora ditemi qual è il senso di questa cosa perché le botte dovrebbero essere un modo per purificare la gente qua su Youtube bisognerebbe massacrare tre quarti di persone se bisognerebbe educare la gente perché ce ne sono alcuni che le botte non servono comunque al di là di quello ora mi dite perché le botte dovrebbero purificare una persona voglio qua nei commenti comunque al di là di quello una sera queste ragazze sentono urlare vanno in una stanza vedono una suora che sta percutendo selvaggiamente a modi rocchi balboa una di queste prende la faccia la mette nella vasca da bagno la picchia la mette di fare le peggio cose per purificarla queste si rompono le balle dicono basta vanno lì accoppano la suora la buttano in un lago e la uccidono ok la ragazza scopre la realtà che era rimasta incita del sacerdote oddio cosa non si può dire in realtà succede anche adesso e sempre e ne ho sentite le storie di paroci che mettono in cinta le proprie cose quindi non è impossibile questa cosa passano gli anni le ragazze coinvolte questa cosa cominciano a sparire di volta in volta la figlia di una di queste che è è sospetta diciamo della morte della madre quindi dubita che si sia suicidata pensa che in realtà sia qualcosa legato a questo collegio parte con questi altri epiti e va lì a capire cosa sta succedendo appunto in realtà la trame è questa non c'è altro da dire proprio nel succo allora perché questo film secondo me è insufficiente prima di tutto lo spettro lo spettro veramente sembra uno di quelli di Casper e non sto scherzando ovviamente non fa paura un film che non fa Faspers il colpo di scena finale è telefonato nel senso che lanciano indizi per tutto il film io dopo 30 minuti più o meno 35 minuti avevo capito dove si stava andando a parare e avevo più o meno capito effettivamente che finale sarebbe stato forse ha anche senso questo finale non è così impossibile però te lo aspetti poi veramente aveva perso tutta la tensione perché a fine film perde tutta la tensione del film per a colpa anche dei dialoghi non all'altezza sicuramente un dialogo abbastanza ridicolo aveva perso tutta la tensione quindi arrivi alla fine che dicevo va bene ho visto il finale ok cioè non è che ci arrivi carico proprio ci arrivi scoppiato che guardi un telefono eccetera non lo so quella è colpa un po' anche della sceneggiatura i dialoghi sono della sceneggiatura alcuni buchi di trama lo spettro che sembra Casper ma davvero non fa paura a nessuno non lo so sembra forse anche a basso budget non lo so però ci sono dei film a basso budget che sono molto meglio Aclos The River che ne ho parlato tempo fa mi sembra due anni fa in una recensione era bello una tensione pazzesca nonostante non fosse bello proprio da punto di vista proprio visivo perché a quel povero Cristo i soldi non gli ridanno gli danno budget zero ma Aclos The River è meglio di questo perché lì crea veramente una tensione nell'ambiente circostante che veramente fa paura cioè Aclos The River funziona per le musiche per le ambientazioni che fanno spavento veramente però siccome non gli davano niente non è che ha fatto un gran film è sufficiente ovviamente però con un piccolo budget avrebbe fatto un bellissimo film mi sembra Lorenzetti no Lorenzini mi sembra che si chiama ora a memoria non mi ricordo questo invece è un film che veramente ti spera per tutta la tensione già quasi a metà film è un peccato che poteva essere un'idea interessante a questo punto lo devo vedere per forza quell'altro quello di De Congiuli lo devo vedere per forza secondo me era un film terribile comunque al di là di questo sembra un film del sabato sera di quegli altri che davano su Rai 2 quelli che davano in seconda serata horror marci marci nel senso brutti peraltro che non facevano paura a nessuno e che non si rivedeva nessuno non mi ha divertito non mi ha spaventato peccato perché il regista secondo me la tecnica ce l'ha perché comunque non è che è girato male perché poi in realtà si pensa che in questi film il problema sia la regia ma spesso non è tanto colpa della regia è colpa della scienziatura è colpa è colpa di altro in realtà anche dei attori cani ovviamente non c'è un approfondimento psicologico forse ce l'ha giusto la ragazza ma ovviamente come sempre sempre così quindi cioè peccato perché mi sembra che questo alla mano ce l'abbia anche credo che abbia fatto solo questo film perché lui credo che sia un tecnico forse era un direttore della fotografia non mi ricordo mi sembra che l'avevo letto a memore ma ora mi sfuggi peccato poteva essere veramente un discreto film perché con delle trame così sinceramente non tiri fuori nulla però diciamo che poteva essere interessante detto quello vi do appuntamento alla prossima vi do appuntamento